Il gioco inizia a convincere ma resta per l'Italia il problema del gol. Immobile in azzurro non trova la rete, Belotti non è ancora al top e Mancini deve così sperare anche nella rapida crescita di Cutrone. E' un Milan falcidiato dagli infortuni quello che si prepara ad affrontare la gara con la Lazio e il club si interroga sui motivi di questi guai. Intanto domani udienza davanti all'UEFA in attesa delle sanzioni per le violazioni del fair play finanziario. L'arrivo di Marotta all'Inter sembra poter aprire le porte all'applodo di Milinkovic-Savic a giugno. Marotta aveva già parlato del serbo con Lotito quest'estate quando lavorava per la Juve e aveva trovato un principio d'accordo. Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Parleremo inizialmente dell'Italia, vigilia per la nostra nazionale della partita con gli Stati Uniti. Lo faremo con Gaetano Mocciaro, buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera. E un saluto anche a Marco Frattino. Ciao Lorenzo, buonasera. Dunque un'Italia, quella che si è vista con il Portogallo e mi rivolgo a Gaetano Mocciaro. Bella, il gioco ha convinto, la manovra è stata ariosa, ha tratti anche spumeggiante, però resta il problema del gol e questa è la questione più stringente. Come si risolve il problema del gol? È una bella domanda. Devo dire che se non altro il bel gioco l'abbiamo ritrovato, ma non solo col Portogallo, perché già con l'Ucraina in amichevole aveva offerto un'ottima prova alla squadra di Mancini. Anche lì lo stesso problema era effettivamente il gol con la Polonia. Abbiamo giocato molto meglio dei nostri avversari, vittoria meritata. Per quello che riguarda il gol è un problema che dura purtroppo da anni, perché manca un grande centravanti. C'è Immobile, che è un ottimo centravanti per la Serie A. Evidentemente questa è una nazionale che forse deve giocare in modo diverso, con un finto centravanti. La soluzione Bernardeschi come Falso 9, la soluzione che era stata trovata con l'Ucraina e con la Polonia in questo momento forse è la migliore per il gioco che sta esprimendo l'Italia. Certamente ci dispiace perché vai a perdere poi una punta da 20 gol all'anno in campionato ed è onestamente un peccato. Non saprei dire quale può essere la ricetta se non un discorso mentale per quello che riguarda Ciro Immobile, che sarebbe poi il centravanti principe di questa nazionale. Io insisterei, una volta ripresosi Bernardeschi magari con un modulo, con un finto numero 9, intanto il gioco c'è e questa è la cosa più importante. Probabilmente arriveranno anche i gol più avanti, oltretutto adesso iniziano le qualificazioni agli europei, ci saranno partite anche sulla carta più semplici rispetto a quelle con Portogallo e con Polonia, quindi magari si troverà con più facilità la rete. Restando su Immobile però c'è da chiedersi perché questo giocatore riesca a segnare con continuità della Lazio e invece faccia grande fatica nella nazionale. Probabilmente il gioco di Mancini non è adatto a Immobile che è più propenso ad esaltare le sue caratteristiche in contropiede e magari fa più fatica a smarcarsi nel gioco voluto da Mancini? Può essere questa una chiave di lettura, il fatto è che Immobile non è mai riuscito a incidere con i grandi club, nel senso che ha giocato a Siviglia, ha giocato al Borussia Dortmund, sono stati comunque degli appuntamenti falliti per lui. Quindi anche la Juventus in passato, ricordiamo che il cartellino era di proprietà della Juventus, a essere disfatto, insomma a cuor leggero. Quindi vuol dire che forse Immobile non è un grandissimo attaccante, in campionato può andare bene, in Europa League può andare bene perché comunque riesce a fare la differenza. Però poi quando il pallone scotta, quando si gioca davvero ad altissimi livelli forse lui non riesce a incidere in maniera decisiva. Il fatto che preoccupa è che l'Italia non ha una vera alternativa, c'è Belotti che però due anni fa valeva 100 milioni di euro, poi si è perso nel campionato, quindi ha avuto dei problemi suoi fisici. E allora Mancini non ha un vero e proprio attaccante. È vero che le grandissime nazionali forse non hanno neanche loro grandi attaccanti, basti pensare ad esempio al Portogallo che aveva Andres Silva, la Spagna che comunque continua a giocare con Diego Costa, oppure sta cercando Rodrigo, insomma altri attaccanti che non sono proprio di primissimo piano, se vogliamo, almeno rispetto al passato. Anche altre nazionali non hanno grandissimi interpreti, lì il Belgio che comunque ha Lukaku, però prova a giocare anche col falso 9. Quindi vuol dire che la generazione è un problema comune a tante nazionali. Per Immobile comunque è arrivato il sostegno come è normale che sia da parte di Acerbi, suo compagno di squadra nella Lazio, ha detto che i gol di Immobile arriveranno. E' anche una questione di fortuna, insomma in qualche modo ha cercato di togliere un po' di responsabilità a Immobile che comunque si è preso le sue colpe, tra virgolette anche per quello che non è riuscito a fare nella partita contro il Portogallo sabato sera. A proposito di Immobile sentiamo anche il parere di un grande ex laziale come Vincenzo D'Amico che è intervenuto ad RMC Sport. I numeri dimostrano che Immobile è un giocatore molto importante. Però nella Lazio gioca in un modo, il nazionale in un altro. Per assurdo, lui nasce con Zeman con il 4-3-3, quindi questo gioco lo dovremmo conoscere molto meglio di altri. Ma probabilmente sai, un giorno in un metodo di Zeman non è assolutamente quello di Vincenzo, anche se 4-3-3 i movimenti sono differenti e lui io credo che sia molto condizionato. La Lazio è padrone di fare quello che vuole, certo con il consenso dell'allenatore, di Zaglino, però va dove gli pare, detta il passaggio, tutte le zone dell'attacco sono buone per lui. Lì in un nazionale è un po' più stretto e probabilmente non si trova a giocare in questo modo. Non possiamo parlare di due gol sbagliati, uno clamoroso, quello con la palla che rimbalzava, ma l'altro è stato anche bravo il portiere, si è parlato dello scavino, ma forse neanche c'era lo spazio per farlo. Quindi io credo che uno sarebbe già clamoroso, l'altro un po' meno. Ecco, in attesa del miglior Belotti, perché comunque bisognerà anche far leva su questo giocatore che ha fatto vedere tutte le sue qualità nel Torino, non soltanto quest'anno, quest'anno è ancora alla ricerca di se stesso, però comunque il valore c'è da parte del giocatore. In attesa del miglior Belotti, è troppo presto per pensare di lanciare Cutrone in nazionale, per provarlo, per fargli assaggiare l'atmosfera della nazionale? No, affatto, non è affatto presto, anzi, il problema della nazionale secondo me è che i giocatori che ha non hanno sufficiente esperienza internazionale, per cui meglio lanciarli subito nella mischia. Già c'è un problema che pochissimi giocatori italiani fanno la Champions League, c'è Insigne e pochi altri, c'è Bernardeschi ma non è neanche un titolare nella Juventus, se non altro Cutrone che è un giocatore che sta uscendo fuori adesso, ha l'occasione veramente di maturare ulteriore esperienza, lo sta facendo in Europa League, farlo anche con la maglia della nazionale lo aiuterebbe a crescere ancora più velocemente e farebbe il bene, oltre che del giocatore, anche della nazionale stessa. Oltretutto vedo che sta portando risultati decisamente migliori rispetto a Belotti in un ambiente come quello del Milan che ha molte più pressioni del Torino, mi pare che abbia anche quindi più personalità, più fame, ed è giusto a questo punto puntare su di lui. Può essere il bomber del futuro Cutrone? Sì, intanto lascerei giocare l'European Under 21 perché tra meno di un anno ci sarà proprio questo appuntamento, insomma lui, Keane della Juventus, possono essere questi poi gli attaccanti del futuro dell'Italia, però fino ad allora gli farei giocare senza problemi l'Under 21. Poi non dimentichiamo che l'Under 21 fa a meno anche di Donnarumma che è comunque inserito nella nazionale maggiore. Quindi Cutrone sì, in ottica Euro 2020 punterei anche io su di lui sinceramente, però poi ovviamente terendo in rosa i vari Immobile e Belotti sperando che riescano poi a giocare la Champions con i rispettivi club o con altri, per carità, poi le vie del mercato sono infinite, però Cutrone in ottica Euro 2020 sicuramente merita menzione, merita attenzione. Della nostra nazionale ha parlato anche Nuno Gomez, l'ex attaccante portoghese della Fiorentina, ha giocato con la Fiorentina alla fine degli anni 90, inizio anni 2000. Nuno Gomez che ha analizzato la partita di sabato sera tra Italia e Portogallo, ha parlato anche di altre questioni, è stato intervistato da Raimondo De Magistris ad Amsterdam nel corso di Wisecout Forum, la grande manifestazione che si sta tenendo in Olanda. Vediamo. A Portogallo un punto era sufficiente, bastava un punto per passare in primo, però l'Italia ha messo in difficoltà la nazionale portoghese secondo me nel primo tempo. Portogallo non ha riuscito a salire della difesa, del metà campo, e quindi l'Italia ha fatto benissimo nel suo primo tempo perché dopo il secondo Portogallo secondo me all'intervallo forse ha cambiato lì un po' la tattica, ha capito pure come stava giocando l'Italia e ha creato anche nel secondo tempo un paio d'occasioni per fare il gol. Secondo me il pareggio ci sta perché è stata una bella partita anche se senza gol, però l'Italia ha fatto una bella partita e Portogallo non ha riuscito a essere quel Portogallo di prima, però nel primo tempo sembrava quel Portogallo che ha vinto l'Europeo perché difendeva molto e non ha subito gol e quello è sempre importante per stare più vicino a vincere. Quanto manca, ti chiedo, Cristiano Ronaldo a questo Portogallo, soprattutto in attacco e se secondo te quando tornerà, se tornerà nella nazionale portoghese? No, tornerà prima o poi, secondo me tornerà prima o poi. Ha avuto forse fare una pausa anche perché è iniziato in un nuovo club, un nuovo paese, è ovvio che manca alla nostra nazionale perché qualche squadra con lui è sempre più forte, anche la Juve secondo me è più forte rispetto ad altri anni in Champions League per esempio che secondo me lui può aggiungere quello che mancava alla Juve per vincere la Champions League perché lui può sbloccare una partita, se le squadre non riescono a creare occasione, se non riescono a fare gol, lui prima o poi in un attimo, in un secondo può cambiare tutto. Torniamo a sentirlo più avanti, Nuno Gomez, in questa intervista interessante. Prima parlavamo di Cutrone, allora adesso soffermiamoci sul Milan perché il Milan deve fare i conti con 12 infortuni dall'inizio di questa stagione. Sono tanti e quindi chiaramente il club rossonero si interroga sui motivi di questi guai se effettivamente debbano essere una causa legata alla preparazione o se invece la Rosa non ha consentito di fare quei necessari cambi a Gattuso per poter ruotare la Rosa e quindi sfruttare tutto il gruppo a disposizione. Probabilmente però i ricambi non sono così all'altezza della situazione. Sì, i fattori sono tanti. I ricambi non sono quelli che sono rimasti, non sono decisamente all'altezza della situazione perché se Gattuso non ha mai fatto giocare Jose Mauri se non contro i lussemburghesi del Doudelange o Bertolacci, un motivo ci sarà. Lo stesso Simic verrà fatto giocare per disperazione probabilmente contro la Lazio a meno che addirittura non venga accentrato Rodriguez in una difesa 4. Il Milan, sicuramente questi infortuni fanno riflettere, non può essere un caso innanzitutto. Addirittura mi viene in mente qualche anno fa la Juventus aveva lo stesso problema e si era andato a cercare la causa nell'umidità del campo di allenamento di Vino. Adesso non so se a Milanello si sono cambiate le condizioni atmosferiche però qualcosa sicuramente non va e credo possa essere sia la preparazione sia l'usura di alcuni giocatori che si sono trascinati oltretutto degli infortuni perché Cialanoglu e Bonaventura avevano degli infortuni, dei problemi fisici che si trascinano praticamente dal precampionato e appunto perché mancavano i ricambi adeguati poi Gattuso ha fatto giocare pure troppo. Romagnoli era stato fatto riposare col Betis perché stava scattando l'allarme rosso effettivamente perché stava giocando troppo. Sicuramente una rosa un po' corta anche perché il Milan non è riuscito a qualificarsi alla Champions League, c'è la spada di Damocle dell'Uefa per il fair play finanziario e quindi non si sa quanto si può spendere. Ricordiamo che quest'estate il Milan era stato di fatto escluso dalle competizioni europee per cui ha fatto anche un mercato quasi in fretta e furia, non ha potuto coprire tutti i reparti e insomma una serie di concatenazione di eventi sfortunati, mal calcolati che hanno poi portato anche a questa situazione. Oltretutto la cosa grave è che ancora manca la sentenza dell'Uefa e staremo a vedere se il Milan poi potrà operare sul mercato a gennaio. Sta di fatto che adesso si pagano tutte le conseguenze del caso. Per adesso per gennaio si parla a proposito della difesa come rinforzo per il Milan di Benatia. Operazione possibile? La Juve può lasciarlo partire in prestito? Credo alla fine sia difficile per gennaio, nel senso che la Juventus comunque ha fatto giocare e Benatia spesso e volentieri in questa prima parte di stagione. Quindi non vedo il perché poi debba privarsi di un elemento, a meno che poi non arrivi la richiesta. Tra l'altro nell'ultima partita contro il Milan Benatia è stato preferito da Allegri a Bonucci. Esatto, a meno che non ci sia una richiesta esplicita del calciatore ma poi non credo la Juventus possa andare a rinforzare una squadra che potenzialmente tra sei mesi può diventare una delle anti-Juve. Quindi credo sia difficile almeno a gennaio, poi in estate tutto potrà accadere ovviamente magari la Juventus crederà che il ciclo di Benatia a Torino sia finito e allora tutto sarà messo in discussione. Però sinceramente credo a gennaio possa essere davvero molto difficile. Torniamo a sentire adesso Nuno Gomez nell'intervista realizzata da Raimondo De Magistris. Nuno Gomez che parla di Andre Silva, l'attaccante che al Milan non ha trovato e non ha avuto grande fortuna. Secondo me sì, non ha avuto il tempo necessario perché il campionato italiano è un campionato difficile per chi arriva di nuovo e lui non ha riuscito. Secondo me forse hanno messo sulle spalle troppo responsabilità nel periodo che il Milan viveva e lui è ancora un giovane che forse quella responsabilità non poteva tenere sulle spalle perché sta facendo bene in Spagna, ha fatto bene in Portogallo, fa tante belle cose sulla nazionale portoghese anche se il calcio è un po' diverso in Italia perché è più forte tatticamente, i difensori sono più aggressivi e più intelligente anche a giocare e quindi è sempre duro per uno arrivare in Italia e fare bene subito nella prima stagione. Risposta secca da parte di Gatano Mocciaro, Andre Silva lo riprenderesti al Milan? Sì, lo riprenderei anche se lui non credo voglia tornare, ha fatto di tutto per lasciare il Milan. Invece prima accennavi alle pene che arriveranno da parte dell'UEFA per il Milan per la violazione del fair play finanziario, domani ci sarà quest'udienza davanti all'UEFA, non ci sarà domani la pronuncia dell'UEFA, però cosa aspettarsi? C'è da aspettarsi secondo me una bella multa, il Milan ricordiamo è stato escluso dalle coppe europee quest'estate per cui non credo che la UEFA possa essere troppo leggera anche perché con lo scandalo di Football Leaks riguardante anche il discorso di Paris Saint Germain e Manchester City, la stessa UEFA è sotto l'occhio del ciclone e dovrà anche dare prova di avere una mano pesante. Parliamo adesso dell'Inter, manca soltanto l'ufficialità per la prodo nella dirigenza nerazzura di Marotta, Marotta che sta discutendo gli ultimi dettagli con la proprietà cinese e poi Marotta si metterà al lavoro. Il primo colpo a parte del dirigente ex Juventus potrebbe essere quello di Milinkovic-Savic che potrebbe arrivare a giugno all'Inter, per Milinkovic-Savic Marotta l'estate scorsa aveva raggiunto un preaccordo con Lotito per poi poterlo portare alla Juventus e questo preaccordo potrebbe essere fatto valere proprio per l'Inter. Sì, sarebbe il primo grande colpo di Marotta all'Inter, comunque Milinkovic-Savic è un calciatore che per carità quest'anno non sta brillando più di tanto, però abbiamo visto il suo valore in Italia in più stagioni anche, quindi sarebbe un innesto importante per la squadra di Spalletti come comunque lo è stato anche in Angolan se vogliamo la scorsa estate, anche un colpo ad effetto per far capire che l'Inter sta tornando, vuole tornare a livelli di un tempo, può spendere senza avere poi grossi problemi dal punto di vista anche con la UEFA nelle coppe europee e quindi Milinkovic-Savic risponderebbe poi all'identikit perfetto per potenziare la squadra di Spalletti e per lanciare un nuovo segnale insomma al campionato sia in chiave secondo posto che adesso l'Inter per carità sta lottando per il secondo posto, ma in futuro anche per il primo posto perché questa egemonia della Juventus prima o poi dovrà finire, allora l'Inter sta lavorando per carità per mettersi ai livelli del Napoli, per diventare la vera antagonista della Juventus quest'anno ci sta riuscendo parzialmente, nella prossima estate se poi il mercato dovesse partire da Milinkovic-Savic allora ci sarebbero tutte le premesse poi per provare a spotestare i bianconeri. Ecco ma l'Inter fa davvero bene appuntare tutto su Milinkovic-Savic e soprattutto oggi quanto vale Milinkovic-Savic? Lo titolo ha valutato 150 ma non è assolutamente un prezzo compatibile con le possibilità delle squadre italiane Ma anche con il rendimento attuale Assolutamente con il rendimento attuale, lui è un giocatore irriconoscibile, il Milinkovic-Savic di quest'anno vale probabilmente un terzo di quanto ha chiesto lo titolo in estate Quindi oggi a tuo parere vale 50 milioni? Forse un po' esagerato, al ribasso, 50 milioni magari sono un po' pochi ma stiamo parlando di un giocatore che comunque non ha mai fatto la Champions League, per cui con questi 50 milioni sarebbero nel mondo reale tanti soldi, parliamo di un giocatore che non ha mai fatto la Champions, sì però non vale comunque sicuramente 100 milioni potrebbe ecco con 70-80 milioni massimo, probabilmente la Lazio lo cederebbe perché comunque è un giocatore che ha fatto un mondiale al di sotto delle aspettative è ritornato svuotato, è ancora in fase, è in parabola discendente, ancora non l'abbiamo visto grossi margini di miglioramento nelle partite che contavano, la Lazio ha perso e Milinkovic-Savic è stato uno dei capri espiatori delle partite contro la Roma per esempio, mi ricordo è stato uno dei peggiori in campo, per cui è un giocatore che deve anche far valere magari 70-80 milioni che spera di realizzare Claudio Lotito, sicuramente comunque l'Inter con lui farebbe un grande affare anche se ho una perplessità magari legata al modulo di gioco che usa Spalletti perché lui gioca con il 4-2-3-1 Milinkovic-Savic sia con la Serbia sia con la Lazio si esalta in un centrocampo a 3, un giocatore che comunque dovrebbe ridisegnare la squadra dal punto di vista tattico dovrebbe anche ridisegnare anche se magari con un centrocampo a 2 potrebbe anche forte fisicamente nel gioco aereo comunque anche Pogba si è adattato al 4-2-3-1 potrebbe farlo anche lui grazie a Gaetano Mocciaro e grazie naturalmente anche a Marco Flattino a te Lorenzo grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti